50 nuotare il bambino impara per imitazione dai genitori commento anche ma non soprattutto se i bambini sono buttati in acqua per la prima volta vanno sott'acqua non annegano e riescono a tornare a galla e a respirare nuovamente ma nessuno gli ha insegnato a nuotare questa abilità gli è data dagli istinti provenienti dal mondo animale